Bella ragazzi sono le Dragolose e bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim Oggi finalmente facciamo la missione del trono sanguinante Alleluia 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 La missione del trono sanguinante Vabbè ragazzi Guardate adesso il delirio Il delirio per questa missione Il delirio Sbaglio o è O se è O C'è qualcosa che è stato scaraventato via nel cielo Me lo sarò immaginato forse Ok comunque Dobbiamo ritornare qui E' una bella strada comunque Allora dobbiamo ritornare qui che tra l'altro L'abbiamo già fatto Però chissà perché ce lo fa rifare Anzi c'è anche Ci sono delle caverne Allora c'è una caverna Ma è una roba che non abbiamo ancora fatto C'è ancora scoperto Ci andiamo prossimamente Ma non c'è nessuno qua Non c'è nessuno Cioè Ma nemmeno uno che Che fa la guardia Ma nemmeno uno che fa la guardia Cioè dico Metti un tizio Mettine due E anche i scemi Ma che facciano la guardia No No Proprio No guarda Proprio Proprio della serie A me non mi ne frega un cazzo Però vabbè Qua proprio Niente Entriamo Entriamo e vediamo Vabbè Ovviamente andiamo ad ammazzare Tutti quanti Quelli che si mettono In mezzo Tra 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 me E il bottino Aia No Non è per di qua Allora Oh merda E Allora Disarma No Perché questi Sono Maghi E non hanno Forma ghiacciata Si Porca vacca Uno è anche volato Allora Aspetta che Con controllo La Ricarica Salve Bam E uno E due Ok Ok E questi E' fatto Poi Ho sbarrato Dall'altro Lato Allora Qua Non c'è niente Quindi dobbiamo andare In In basso Dal coso In basso qua Si Che poi qua C'è tutto Il casino Non ho da fare Allora Poi qui L'altra porta di legno Oppala C'è stato tipo Un flash Se hai capito Aspetta Facciamo un safe state qua Per sicurezza Non si sa mai Ma che cazzo Aia 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 Affanculo Il tuono Di Tondil Ah ok E' questo Allora Dovrebbe essere Questo Catena di Fulmini Che è l'altro Uno Due Ma che cazzo Ma si può sapere Che cazzo succede Hai un aspetto peggiore Del mio Cosa vuoi Non ti devo salti giù Scusa Hai bisogno di qualcosa Si 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 Hai bisogno di Cosa Cosa Si Vabbè Vabbè Cosa è successo Ma che No aspetta Dove cazzo sono Perché c'è La musica Tipo Quando siamo a casa No aspetta Mi sono perso Qualcosa Serve qualcosa Serve qualcosa Vorrei sapere Perché Mi sono Teletrasportato Qua Mentre stavo Per Saccheggiare Un Baule John Le Dillo Anche tu Scusa Posso uscire Da qui Per favore Bosco Brumoso Ma che cazzo Bosco Brumoso Ma che roba E No aspetta Ma non ha senso Ma che cazzo No No aspetta C'è Qualcosa Che Non è quadra Perché cazzo Sono qui Pronto Ma Ma non ha senso Questa cosa No Questa è una cosa Bella Bella e buona Sai Devo Ricaricare Il salvataggio Ma che cazzo Porca puttana Non è possibile Dai Dove cazzo Mi ha fatto andare Porca puttana Perché non mi corre Più adesso Ho una gran voglia Di combattere Oh È tutto pronto Andiamo Tu adesso Vieni qua Porca puttana Che è la seconda Volta Fanculo Porca puttana E uno E due Ma certo Fa attenzione Non lo so Allora Quale è Vieni con me Andiamo Dove è gli altri Ok Porca troia Hai un aspetto peggiore Del mio Ora posso prendere Queste cose Verso bosco brumoso No aspetta No Ma Io questo non l'ho proprio visto C'è qui al coso brumoso C'è al coso brumoso È tutto pronto Andiamo Ma che roba Non so ma guarda Guarda Lasciamo stare È mancato Volevi Salve Salve Qui Qui Porco Che è questo Cazzo non corre Ok Poi Prossimo Che è il prossimo Apri porta Ad asilare Ma mi sembra Che vero Già parta Sta porta Ah no Tu è che Ah Naris il maligno Eh io ti ho distrutto lo stesso Ah Ok Apriamo il baule Tacca 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 Eeeh No Ma che cazzo Mmm Non sembra esserci Niente di che Bule L'abbiamo fatto Sì L'abbiamo fatto Eeeh Vabbè Qui è La cosa della Benedizione Ma possiamo farlo Anche senza Ok Possiamo uscire Sì Troviamo Il passaggio Adesso Eccolo qua Bam Scoglierim Porca miseria Oh che male Allora Accademia di Winterhold No sul serio Ma ti fa perdere Tutte le energie Questo gioco Eeeh Eh adesso Con le Le Musiche di Completamento Un quarto d'ora Dopo Sì sì Allora Cazzo Ehi sopra Allora A te Allora Ti manda ancora Delvin O questa volta Vieni per conto tuo Bene Bene Va bene Hai fatto la tua parte E io farò la mia Ecco la gemma Che voleva Armin Non so Cosa voglia farci Non ha la capacità Di catturare un'anima Sì Ehi Forse riusciremo ad andare avanti ancora qualche decennio senza una catastrofe Sarebbe bello Forse riusciremo ad andare avanti ancora Sto lavorando a una ricerca molto importante Credimi Ecco qua la tua gemma Ce l'hai Magnifico Temevo di dovermi arrendere proprio quando era un passo Grazie Mi attende un sacco di lavoro Rimosso E basta? Così? Senza ringraziamento? Oh Ma che cazzo fai? Torni a letto Via Allora Allora qui Vabbè c'è un letto così Di proprietà Ma qui non c'è nessuno Allora Tu Allora vediamo un po' Un po' giù Che cosa vogliono Il cazito Al cazito Ma perché qua mancano sempre delle persone? Ah parliamo un po' con lui Se hai ancora del tempo a disposizione Io ho sempre bisogno di aiuto Sì infatti Ehm Per cosa ti serve aiuto? Andiamo tutti cercando di diventare dei maghi Giusto? Non lo so Beh ho bisogno di qualcuno Che mi faccia da cavia Per delle magie Niente di pericoloso Giuro Tu potresti farmi da assistente Ehm Cosa c'è per me? Beh io Io pensavo che tu Volessi aiutare una maga A tua collega Se vuoi qualcosa di più materiale Ho questo amuleto Potresti prenderlo Mmm D'accordo Ti aiuterò Oh bene Temevo di doverlo chiedere a Cesaro Allora va a metterti là Là dove? Per favore Resta immobile Cerca di non muoverti Ecco Ora io Oh cielo Non sarebbe dovuto succedere Stai Stai bene? Cioè? Sembri molto Verde Mi dispiace moltoissimo Ho studiato a fondo L'incantesimo Credevo che l'esito Sarebbe stato migliore Dimmi che non è permanente No Non temere Non dovrebbe esserlo Vedrai che tornerai normale Tra pochissimo E quando sarai a posto Potremo provarci ancora La prossima volta ce la farò Aspetta che Sarà meglio che vada Sono verde? No è solo la cosa che vada Se hai ancora del tempo a disposizione Io ho sempre bisogno di aiuto Ci vediamo Sì ok ma Eh aspetta che Se vi esaurisco Ok ma No ma è Ma è l'immagine Che è verde Io non sono verde Cioè i colori sono Sempre gli stessi Eh proviamo a A uscire Non lo so Dobbiamo uscire Non lo so perché qua Non viene più Non più fuori Guardatemi Sono tutto verde Sono Sono Hulk Versione Deve Elder Scrolls Largoniano verde Vabbè qua Proprio guarda Tra pochissimo Dicevano Ritornerai alla Normalità Dicevano Scusa Adesso io Mi incazzo Aspetta Ma non è che Mi ha messo Una cosa Già che Che ha detto Che c'è qualcosa Ma che Febbre spacca ossa Riposato Del 5% Per 8 ore Per forza Allora Vaffanculo Eh Pozioni No allora Non è un veleno Perché Mi confondo Sempre E l'altro Qua ne ho tipo Tipo miliardi Ancora malattie Pring Non avrei mai sospettato Che l'occhio potesse essere così Beh Eh ok Tolto Tutto diventa verde In Ah Eccolo qua Tutto Diventa verde Un minuto Un minuto Ma se io Lo faccio Di Un'ora Ancora Alleluia Carca Puttana Se hai ancora Se hai ancora del tempo A disposizione To è svanito Proprio come avevo detto Allora Ci proviamo ancora una volta Adesso funzionerà Mi sono sicura Dai Che non Che non Mi parte Perché c'è una mucca Non parliamo di un'ora Non parliamo né più D'accordo Grazie per l'aiuto La tua amicizia è stata preziosa Sarà meglio che vada Non so che cosa dire Non so che cosa dire Ragazzi non so che cosa dire Allora ragazzi Io direi Che possiamo Finire qua Non so Cos'è questo episodio Cos'è venuto fuori Questo episodio Non Non lo so Ok È Skyrim Episodio Non lo so Che cosa è saltato fuori Comunque ragazzi Vi dico che per questo episodio È tutto Vi ricordo che se non siete ancora iscritti Al canale Iscrivetevi Se volete Rimanere Aggiornati Sui prossimi Episodi Di questo gioco E di altri giochi Mettere un bel Pollice Ne su E mi raccomando Anche di dire La vostra Nei Commenti E noi ci risentiamo Con un prossimo Episodio Di Skyrim Sperando che qui La situazione Ritorni In modo Civile Normale E soprattutto Intelligente Bella